Ti parliamo anche un po' di questa notizia della società che ha presentato le dimissioni in blocco, non se l'aspettava nessuno? No, no, assolutamente, l'ho saputo ieri sera, è una notizia che ha scosso un po' tutto l'ambiente, vedremo quello che succederà. Non ho niente da dire in merito, sono scelte prese da loro che vanno rispettate, quindi speriamo che torni tutto alla normalità il più presto possibile. Ma io come tu sai ho trovato un accordo di base con la società, in questo momento è saltato un po' tutto, relativamente a quelle che sono state le dimissioni, ne parleremo in questi giorni, faremo una conferenza a stampa totale e si parlerà un po' di tutto. Però in questo momento è anche indelicato e anche poco giusto poterne doverne parlare, anche perché le cose principalmente le sanno loro in società.